La fidanzata di Dritan Demirai avrebbe avuto, secondo gli inquirenti, un ruolo attivo nell'omicidio di Lidia Nusdorfi e Silvio Mannina. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, Fiorella Casadei, ha ordinato che Monica Sanchi, questo il nome della donna, resti nel carcere di Forlì. Le accuse sono pesantissime, duplice omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. Oggi, 2 giugno, la Sanchi sarebbe potuta tornare libera, ma nuovi elementi probanti hanno portato il GIP alla decisione opposta. La donna quindi avrebbe avuto un ruolo tutt'altro che passivo nei due omicidi commessi dal fidanzato albanese, l'uccisione prima di Silvio Mannina, il 28 febbraio a Sant'Arcangelo, in provincia di Rimini, e poi della ex compagna Lidia Nusdorfi la sera del 1 marzo nel sottopassaggio della stazione di Mozzate. Monica Sanchi è stata interrogata tre volte, la notte del 2 marzo, appena dopo l'omicidio di Lidia Nusdorfi, il 14 aprile e poi ancora il 29 aprile. Secondo le prove in possesso dei carabinieri, Monica e Dritan si sarebbero accordati per gestire le dichiarazioni in modo tale da evitare che gli inquirenti vedessero una premeditazione dietro i delitti. Ma secondo l'accusa, gli omicidi sarebbero premeditati, i due avrebbero escogitato insieme i delitti, la Sanchi avrebbe partecipato anche a un sopralluogo alla cava del Lago Azzurro, la zona dove è stato sotterrato il corpo di Silvio Mannina. Avrebbe poi attirato Mannina a Rimini con una promessa sessuale, portandolo a casa del fidanzato albanese, dove l'uomo è stato ucciso. In altre parole, secondo l'accusa, Monica Sanchi nell'intera vicenda non sarebbe stata una spettatrice passiva, ma avrebbe avuto un ruolo attivo.